Buongiorno a tutti i vicepresidenti e mi apremmo al quale fare un applauso. Vorrei ringraziare tutto il centro, tutti i soci, i partecipanti, il nostro risposto, la cittadina che ha reso possibile la scuola. Vorrei ringraziare soprattutto gli atleti e le atlete che si stavano in una dura battaglia. Un grande applauso, ma comunque, a Elena Coli, Pioggia e Elena Coli. E' stato tutto se presentate sul campo a notare fino all'ultimo punto. Un grande orgoglio e un grande pieno. Adesso passiamo alla premiazione con la seconda classificata, appena appunto, Elena Coli. Grazie. 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 Grazie.